Nel 2014, in uno dei miei tanti viaggi attraverso l'Europa, ho avuto l'occasione di visitare una delle regioni della Spagna, la Catalogna. La Catalogna ha un clima mediterraneo, secco, tipico della sua latitudine nell'emisfero boreale. La Catalogna ha una diversità geografica molto marcata, quindi con una certa diversità di climi. La geografia è condizionata dal litorale mediterraneo e dai grandi rilievi dei Pirenei a nord. In questo video vediamo alcune immagini del Parco Goel di Barcellona, tipico giardino monumentale creato dall'architetto Gaudini. Qui si possono notare le varie diversità di vegetazione spagnola e mediterranea. Qui si possono notare le varie diversità di vegetazione spagnola e mediterranea. Qui si possono notare le varie diversità di vegetazione spagnola e mediterranea. qui si possono notare le varie diversità diimal Ma che siamo qua? Alla prossima Alla prossima Ed ecco un'altra zona della Spagna Quella delle isole Baleari Con palma di Mallorca Ritornando alle immagini di Barcellona Come non parlare della Rambla Qui possiamo trovare tipici prodotti spagnoli E qui si concentra per molti il rituale del passeggio a tutte le ore E qui si amore llega sin questa maniera No tiene la culpa Caballo de la sabana Porque è molto despreciato Por eso Lo te perdono llorar E qui si amore llega sin questa maniera No tiene la culpa Amore di comprente Amore del processo Ven, 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 ven L'Ore de Mar è una cittadina situata sulla costa catalana del Mediterraneo, tra le sue caratteristiche spiagge dorate, mare limpido e angoli suggestivi. L'Ore de Mar è una cittadina situata sulla costa catalana del Mediterraneo, tra le sue caratteristiche spiagge dorate, mare limpido e angoli suggestivi. L'Ore de Mar è una cittadina situata sulla costa catalana del Mediterraneo, tra le sue caratteristiche spiagge.